Mattinata di code lunghissime, giovedì lungo la 4 Trieste Venezia con direzione Venezia, un mezzo pesante che trasportava mobili e ha subito l'improvviso scoppio di un pneumatico che ne ha provocato la fuoriuscita di strada con un salto di carreggiata. Il tir infatti ha sfondato il guardrail centrale. Poteva avvenire un disastro ma fortunatamente, se non un grande spavento e grande disagio per le code chilometriche, non ci sono stati feriti. L'incidente è avvenuto alle 11 tra Porto Gruaro e La Tisana. Il tratto stradale, che è rimasto chiuso a lungo, è stato riaperto nel primo pomeriggio. Sul posto hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco per riuscire a liberare la sede stradale. Danneggiato per 60 metri, il guardrail che dovrà essere ripristinato.